Buongiorno, io sono Enzo Campolini, generale dell'Aeronautica in pensione. Non sono figlio d'arte. Mio padre era un tecnico tessile, mia madre una casalinga. Ho vissuto la mia infanzia nel Varesotto, sono andato a Como, poi ci siamo trasferiti nel Varesotto, liceo a Varese e non avevo intenzione di entrare in aeronautica. Io volevo fare fisica delle particelle, solo che per un problema economico di casa. Mio padre rimase disoccupato in un momento molto critico dell'industria tessile. Mi trovai a dover trovare un qualche cos'altro da fare, perché non si poteva pensare di mandarmi all'università. Il volo mi piaceva, ebbi il battesimo del volo come premio per la promozione alla terza media, sul vecchio Macchino, il 308. Io ho coltivato questa passione e quindi feci il concorso per entrare in accademia. Lo vinsi, entrai in accademia e l'intenzione era di vedere come andavano le cose, poi vedevamo le cose che potevano svilupparsi in tanti modi. Solo che sono entrato come terzo in graduatoria, dopo un paio di mesi sono diventato il primo, e a questo punto l'aeronautica mi aveva praticamente messo le manette. E quindi ho continuato in questa avventura, straordinaria avventura. primo brevetto sul Macchia 326, il secondo Macchino, e poi fine dell'accademia, di nuovo scuole di volo, G91T, transizione su F104. Siamo stati, forse credo, il primo corso a andare direttamente dalle scuole a Grosseto per fare la transizione sul 104, e lì è cominciata questa cosa straordinaria, con questa macchina incredibile, che è oggettivamente una macchina che non lascia indifferenti. Chuck Yeager, uno dei più grandi piloti della storia del volo, che ha volato con qualsiasi cosa, volò dai biplani fino all'SR 71, e disse che il 104 era la macchina assolutamente più affascinante con cui avesse mai volato. Di missile con le ali, come veniva descritto, una macchina che richiedeva molto impegno, molto impegnativa, che gode di una ingiustificata fama di fabbricante di vedove, di barra volante. In realtà, all'epoca, il volo era un volo militare tattico, era una cosa che presentava un elevatissimo livello di rischio. La guerra fredda fu fredda per l'esercito, fu fredda per la marina, per le aeronautiche occidentali e anche per quelle orientali, ovviamente fu una guerra piuttosto calda. L'aeronautica ha perso qualche centinaio di uomini durante la guerra fredda, per incidenti, perché l'addestramento veniva condotto ai limiti delle capacità, sia delle macchine che degli uomini. Il 104 fu un salto di qualità dal punto di vista della sicurezza. Passammo da un vedivolo perso ogni 3.000 ore di volo con le macchine della classe 80, fino a uno ogni 7.600. Questa è la statistica finale della vita del 104 in Italia. Quindi le cose migliorarono radicalmente, più di due volte e mezzo, se vogliamo. Però la fama rimase perché l'attenzione dell'opinione pubblica si era concentrata su quello che accadeva. Prima cadeva un pilota dell'aeronautica, pagina 14 in basso a destra, dopo qualche anno, per qualche strano motivo, prima pagina, è caduto un altro 104. In realtà, appunto, era una macchina molto impegnativa, che richiedeva davvero uno sforzo notevole, mentale, fisico, per poterlo volare. Oggi le cose sono molto diverse. Oggi gli aeroplani volano da soli. Il mio ultimo volo lo feci con un Eurofighter, una macchina a cui ho collaborato, perché sono uno dei tanti papà dell'Eurofighter. Sull'Eurofighter la macchina va da sola. Il pilota deve dedicare il 20% della sua attenzione a portare l'aeroplano, e il resto a condurre la missione. Con il 104 le cose erano in rovescio. L'80% della sua attenzione doveva essere dedicato a far volare quella splendida macchina, quello splendido sistema, e il resto a conduzione della missione di volo. Il 104 ha rappresentato per me la macchina operativa. Io ci ho passato una dottina d'anni a Villa Franca di Verona come pilota ricognitore. Noi volavamo con questo aeroplano, profilo di missione, bassa quota fino a arrivare nei pressi dell'obiettivo. Poi si scendeva la quota operativa e si faceva l'attacco a punto 8 di Mach a 200 piedi, con queste macchinette fotografiche che riprendevano l'obiettivo. È chiaro che era un'attività che ti metteva tutte le volte alla prova, perché dovendo sorvolare l'obiettivo non è che potevi tornare a casa e raccontare che avevi fatto chissà che cosa. O c'avevi la foto o avevi sbagliato la missione. Con il 104 io ho avuto un incidente molto particolare. Il 104 aveva i serbatoi esterni e per pompare il carburante dai serbatoi esterni al serbatoio principale, che era una sorta di sella a cavallo del motore, si prendeva l'aria compressa dal ottavo stadio del compressore in modo tale da spingere il carburante verso l'interno. Si provava questo in sistema prima del decollo, al parcheggio, in modo tale da verificare che fosse tutto a posto. C'erano due pistoncini che dovevano saltare fuori dando un motore all'80%. Si controllavano questi pistoncini, controllavano lo specialista e se saltavano fuori tutto bene, se andava in volo. Quel giorno, ero a Grazianise, i pistoncini non saltarono fuori e allora per dargli un po' di spinta, venne tappato uno sfiato. I pistoncini non saltarono fuori, in compenso la pressione crebbe troppo nel serbatoio principale che si lacerò sul motore che girava. In un minuto e mezzo sono andati in fumo 7000 libri di carburante. Io ero lì in mezzo. Mi sono sliegato, sono sceso dall'aeroplano in mezzo al carburante che bruciava. Diciamo che ho fatto un po' la torcia umana anch'io, mi hanno spento, mi sono fatto un mese e mezzo di ospedale, un po' di ricostruzioni, un po' di plastiche e poi a casa. Dopo nove mesi dall'incidente sono riuscito a staccare di nuovo le ruote da terra. E devo dire che dovetti farmi molta forza, perché se capita un incidente e la causa sei tu, non è un problema, non lo rifaccio, per cui non mi capiterà di nuovo. Ma se è la macchina che ti ha tradito, allora hai delle reazioni che difficilmente si controllano. Io mi ricordo che nei primi tempi, dopo aver ripreso il volo, qualsiasi piccola vibrazione, qualsiasi rumore un po' strano, veramente mi faceva scattare l'adrenalina nel sangue. Ma la cosa poi si è superata e ho continuato appunto a portare questo gioiello, questa macchina meravigliosa. Purtroppo era una macchina che incidenti ne ha avuti, dicevamo che la sua sicurezza del volo era particolarmente migliore rispetto al passato, ma certamente non all'altezza di quello che si fa oggi. E amici ne ho persi, ne ho persi parecchi. Vorrei ricordarne di uno in particolare, Leonardo Lanzo, che era il numero tre della formazione di quattro starfighter di Ghedi che si schiantarono su una collina nei pressi di Bitburg, tornando a casa dopo uno squadron exchange. E io ho dovuto andare, come ufficiale sicurezza a volo, a partecipare alla commissione d'inchiesta su questo incidente che appunto ha portato via quattro piloti dei diavoli russi, quattro diavoli russi. erano qualche cosa che veniva dato per scontato. Il rischio era noto, lo conoscevamo e lo affrontavamo con piena consapevolezza. Quindi sapendo che stavamo facendo qualche cosa di importante per il paese, perché garantire una capacità aerea durante la guerra fredda significava veramente essere parte di uno sforzo collettivo, questo comportava dei rischi, li affrontavamo serenamente. Poi ho avuto una grande fortuna perché come comando di Sturmo venne assegnato al reparto sperimentale di volo. Io non sono sperimentatore, andai in questo reparto unico, con delle personalità di elevatissimo livello e mi trovai bene, devo dire che i ragazzi che ovviamente vedevano con, non dico con sospetto, ma con perplessità questo non collaudatore che andava a comandarli, mi fecero l'esame, mi fecero la transizione su ala rotante con il 47 G2, vi ricorderete quella specie di vasca da pesci, che aveva un motore a pistoni, il collegamento tra il motore e il rotore era tramite una frizione, per cui bisognava volare senza sistemi automatici di stabilizzazione, controllando i giri del motore, controllando la frizione. Diciamo che chi superava questo esame vuol dire che poteva essere degno di comandare il reparto sperimentale, e il reparto sperimentale era il paradiso, noi avevamo tutte le macchine, ci sono tutt'ora tutte le macchine in servizio per fare i controlli, i collaudi, le valutazioni dei vari equipaggiamenti, e io al mattino arrivavo in linea di volo, mi guardavo intorno e dicevo oggi è quello, oggi è quello, e lì ho volato con tutto, ho volato dal tornado, al 47 G2, al 212, al C27, G222 all'epoca, ma è quello che è oggi è il C27, quindi ho volato veramente con tutti, sono stato il primo non collaudatore a volare con la MX, devo dire che fu un periodo straordinario, un paradiso, due anni e qualche mese di enormi soddisfazioni con del personale di straordinaria levatura, io ho avuto tra i miei dipendenti piloti e ingegneri di straordinaria qualità, ne cito uno che tutti quanti conoscete, Maurizio Ludovisi, che era comandante di gruppo quando io ero comandante di reparto, con Maurizio abbiamo lavorato in modo veramente sinergico, ottenendo dei risultati incredibili, pensate che per le prove intensive dell'AMX erano pianificate due anni di attività, lo facciamo in sei mesi, perché? Perché la gente lavorava bene, perché c'era stato un rapporto simbiotico con l'industria, per cui il direttore del programma Filippo Bagnato ci mettiamo d'accordo, dico Filippo è chiaro che se succede qualche cosa e io ho bisogno di un pezzo di ricambio, non dobbiamo aspettare le carte, e lui fu assolutamente d'accordo, per cui ogni volta che c'era quella di sistemare qualche cosa, si faceva, e poi le carte seguivano, non con un atteggiamento burocratico, come purtroppo a volte capita di vedere. Finito il periodo di volo, da colonnello, mi trovai a gestire l'ufficio sviluppo, ricerca e sviluppo, il secondo ufficio del quarto reparto, dello Stato Maggiore, e appunto in quella veste, posso dire di essere uno dei papà dell'Eurofighter, come di tanti altri programmi, insieme a tutta la squadra, qui non ci sono individui, ci sono veramente collaborazioni in cui ognuno mette il meglio di se stesso per arrivare a un risultato. Finito questo periodo, mi trovai a essere mandato a comandare l'ispettorato per l'aviazione per la marina. Fu un'esperienza straordinaria anche questa. Diciamo che i reparti anti-SOM sono considerati una sorta di serie B. Prima vengono quelli della caccia, ovviamente, e poi vengono quelli dei flusimotori, e poi vengono gli elicotteristi. Mentalità veramente inqualificabile. Io mi sono fatto un anno e mezzo sugli anti-SOM, ho visto come volavano, e vi assicuro che volare di notte a 200 piedi sulla superficie dell'acqua, senza nessun riferimento luminoso, e farlo per 4-5 ore consecutive è un qualche cosa che fa venire i brividi, tanto quanto portare l'F-104 a bassissima quota sul suo obiettivo. presso i reparti anti-SOM a un certo punto Raffaele Tattavitto, comandante di Sigonella, mi chiama e mi dice comandante, io avrei l'idea di fare un volo commemorativo per l'impresa di Nobile, cade l'anniversario a maggio, potremmo fare un volo ripercorrendo la rotta del dirigibile Italia. La cosa mi entusiasmò ovviamente, cominciamo la preparazione e alla fine decollammo per rifare la rotta della dirigibile Italia sul polo nord. Decollammo da una base in Norvegia e seguivo appunto quello che aveva fatto questa aeronave. non potemmo sorvolare le Svalbard perché il trattato internazionale impediva qualsiasi attività all'epoca sulle Svalbard. Facciamo una circunnavigazione di queste isole e poi proseguimo per il polo nord. Arriviamo sulla verticale del polo intorno ai 20.000 piedi. Che fossimo sulla verticale del polo l'abbiamo capito perché gli strumenti sono tutti impazziti GPS compreso. Il GPS faticava a capire come mai improvvisamente veniva ruotato di 180 gradi la posizione ovviamente secondo la gradazione della rosa dei venti. Arrivati ai 20.000 piedi abbiamo cominciato una discesa a spirale sulla verticale del polo foschia abbastanza densa arrivati a 6.000 piedi il mio copilota comandante siamo sicuri siamo a 6.000 piedi non si vede ancora nulla cosa volete che abbiano costruito qui al polo che possa farci che possa costituire un rischio. Uscimmo a 800 piedi e a 800 piedi ci troviamo su questa distesa di bianco dove gettammo una corona dall'oro a ricordo di di quegli eroici i protagonisti di queste imprese di prima della seconda guerra mondiale e poi siamo ritornati verso la terraferma e alla fine atterrammo a Helsinki dopo aver sorvolato anche il punto della tenda rossa scene meravigliose ricordo che c'era un'orsa un'orsa bianca con il suo cucciolo su un pezzo del pack fu una visione davvero mirabile che non dimenticherò mai e compimmo questa che non era ovviamente un'impresa con una macchina con l'affidabilità e l'autonomia dell'Atlantique non era assolutamente nulla di straordinario però è qualcosa che porta nel cuore poi ho fatto un'esperienza come ispettore sicurezza del volo e da lì Mario Arpino andò a comandare lo Stato Maggiore della Difesa capo di Stato Maggiore della Difesa e mi volle con sé a dirigere l'Ufficio Politica Militare fu un'altra esperienza straordinaria perché mi sono trovato a maneggiare una materia di cui conoscevo poco o nulla per cui ho dovuto ricominciare da capo e fu anche qui una straordinaria esperienza capitata in un momento per certi versi magico da un lato c'era il problema della conflittualità che era rinata ai nostri confini nei Balcani Occidentali e quindi la gestione delle problematiche politiche connesse con questa crisi dall'altro la costruzione della difesa europea e io mi trovai a essere uno dei quattro estensori del documento chiave del documento che ancora oggi può essere considerato fondamentale lo Helsinki Headline Goal dicevo eravamo in quattro come nelle barzellette italiano tedesco inglese francese personalità straordinaria con cui abbiamo lavorato in un modo veramente inatteso con entusiasmo da parte di tutti era il 1999 e nell'arco di due mesi abbiamo scritto quelli che sono i documenti fondamentali che ancora adesso sono non ancora realizzati ma sono alla base di tutto lo sviluppo politico successivo mi volle a questo punto come sotto capo della difesa il nuovo capo di stato maggiore della difesa Rolando Mosca Moschini grande personaggio una persona con un fiuto politico davvero notevole con una capacità di gestire la macchina della difesa davvero singolare lavorare con lui fu una bellissima esperienza mi sono fatto tre anni da sotto capo anche qui con dovendomi integrare in un mondo che per certi versi mi era sconosciuto il mondo dell'interforze quindi dovendomi misurare con ufficiali dell'esercito della marina dei carabinieri devo dire che fu una bellissima esperienza al termine della quale mi vedi catapultato al centro altri studi al CASD non ci andai molto volentieri devo dire perché avevo qualche altra speranza in realtà Mosca Moschini mi disse vai di che ti troverai bene e furono due anni incredibili veramente meravigliosi in cui di nuovo un ambiente totalmente nuovo l'ambiente della ricerca l'ambiente dell'analisi politica che mi ha arricchito in un modo che mai avrei pensato due anni e mezzo molto belli anche qui con tante soddisfazioni e al termine delle quali mi arriva una telefonata da parte dell'allora capo di Stato Maggiore il buon Gian Paolo Di Paola il ministro ti ha disegnato capo dell'aeronautica rimane senza fiato arrivare al vertice dell'organizzazione in cui ho lavorato tutta la vita e fu anche quella un momento molto bello un momento in cui tra l'altro gestire la macchina una macchina complessa come l'aeronautica ti mette anche in condizione di vedere quelle che sono le difficoltà e spesso sono difficoltà di tipo puramente burocratico perché la macchina è una macchina lenta e tu hai le tue idee vuoi che vengano realizzate e vedi che nonostante la buona volontà dei tuoi collaboratori c'è sempre un intoppo c'è sempre manca una firma manca un parere però diciamo qualche cosa di buono l'abbiamo fatto ripeto sempre grazie a una macchina formata da personale molto motivato che spesso non non gode delle luci della ribalta ma non per questo deve essere considerato di meno arriviamo al 2008 siamo nel 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 momento in cui bisogna cambiare il capo della difesa perché è scaduto il mandato di di paola questo è un classico esempio del fatto che nella carriera di un qualsiasi individuo quello che conta è la fortuna non solo la fortuna ovviamente ma conta molto la fortuna perché nella tradizionale rotazione fra le forze armate toccava l'aeronautica e quindi io mi sono trovato a essere il candidato per occupare il posto di capo di stato con la difesa fui molto combattuto perché avevo dei grossi problemi a casa c'era mia moglie silvana che purtroppo si stava lasciando e io volevo stare accanto a lei ma alla fine praticamente mi costrinsero ad accettare l'incarico fu anche qui un'esperienza molto bella il ministro che mi volle lì era arturo parisi grande personalità veramente un grand'uomo con una passione per il lavoro politico e con una onestà intellettuale che veramente sono ammirevoli una delle esperienze interessanti e diciamo quasi una sfida come capo di stato maggiore della difesa fu il rapporto con la stampa perché nell'ambito militare noi abbiamo il nostro gergo abbiamo il nostro modo di esprimerci abbiamo la nostra mentalità che non è così facile spiegare l'opinione pubblica e con i giornalisti bisogna avere un rapporto molto positivo perché perché soltanto se l'opinione pubblica capisce quello che accade nelle forze armate si può godere di quel supporto che è fondamentale anche per la gestione della vita quotidiana fare capire come funzionano le forze armate è veramente un qualche cosa di importante chiarire come funziona ad esempio il sistema dell'avanzamento che è un sistema molto selettivo diciamo che è uno dei sistemi più selettivi che noi abbiamo nel mondo governativo italiano è chiaro che qualsiasi filtro può essere bypassato nelle forze armate è più difficile quindi spiegare queste cose è importante e anche spiegare che cosa sono le forze armate venne da me Ritanna Armeni Ritanna Armeni mi chiese un'intervista chi conosce Ritanna sa che è una donna di sinistra molto di sinistra con una visione molto distorta delle forze armate io accettai questa intervista e lei rimase oggettivamente scioccata da sentire quello che le dicevo su come agivano i militari italiani su come venivano educati come venivano selezionati e alla fine di questa intervista mi disse generale io vorrei fare un libro intervista con lei se lei è d'accordo informai il ministro ovviamente vista anche l'appartenenza politica dell'uno e dell'altro e venne con Ritanna venne Emanuele Giordana e venne fatta questa libero intervista che si chiama due pacifisti e un generale dove spiego che cosa sono le forze armate oggi e perché non sono quella macchietta che veniva dipinta in certi ambienti il libricino aveva una certa fortuna e devo dire che servì anche a chiarire a una certa parte dell'Unione Repubblica che vedeva le forze armate non positivamente che le cose invece erano diverse da come le immaginavano che le forze armate costituiscono uno strumento straordinario per la politica del paese sia per il loro ruolo di difensori del territorio nazionale sia per il ruolo di contributo alla vita del paese in tutte le sue forme soprattutto quando ci sono dei guai e quando si ricorre alle forze armate perché sono gli unici che possono dare un contributo concreto la politica è quello che è e dopo tre mesi ci fu un cambio di governo e io mi trovai ad avere come ministro Ignazio Larussa l'attuale vicepresidente del senato fortunatamente come sottosegretario c'era Guido Crosetto Crosetto e c'era anche Giuseppe Cossiga anche lui con cui ho lavorato bene con Guido Crosetto si stabilì veramente un rapporto di amicizia e noi certamente abbiamo fatto un ottimo lavoro per riuscire a superare gli ostacoli che si presentavano era il momento critico di Afghanistan e io l'ho avvertito con molta intensità molta intensità il mio discorso di commiato il 17 di gennaio del 2011 lo testimonia se qualcuno vuole lo si trova tranquillamente su internet il 17 di gennaio lasciai l'incarico sottolineo la data perché fu qualche settimana prima della sciagurata impresa libica e io posso dire sono innocente mi trovai a essere un felice pensionato e subito sono stato in qualche modo inseguito Frattini mi volle come suo consigliere al Ministero degli Esteri in carico che ho tenuto per qualche mese e che poi ho volontariamente lasciato perché nel frattempo era stato scelto dall'Istituto Affari Internazionali come vicepresidente e allora andai da Frattini e gli dissi signor Ministro io vado in questo think tank e noi non abbiamo peli sulla lingua io voglio avere la possibilità di dire quello che penso sulla politica estera del paese dirlo pubblicamente e potrei trovarmi in difficoltà se c'è qualcosa su cui non sono d'accordo e Frattini accettò le mie dimissioni con un sorriso e fui per otto anni vicepresidente dell'OIAI anche in un ambiente meraviglioso con ragazzi giovani ricercatori e quando stai in mezzo ai giovani non si invecchia è una c'è un osmosi per cui si è stimolati mentalmente e questo ha delle conseguenze anche sul fisico ultimato questo periodo di otto anni sono rimasto nell'istituto dove continuo a partecipare all'attività a scrivere a dare il mio parere quando viene richiesto a imporlo quando non viene richiesto perché così si fa tante altre piccole cose fatte nel frattempo diciamo che mi tengo impegnato scrivo mi vengo interpellato per commentare le drammatiche tragiche vicende che coinvolgono il nostro pianeta e il nostro paese lo faccio volentieri spero di poter dare una qualche spiegazione al pubblico che ha bisogno ha necessità di capire che cosa sta succedendo e questo è in estrema sintesi tutto è in estrema